Sapori che se ne vanno, da una discussione di FLP del 2014. Una serie di pippe buone e tabacchi di buona qualità, sapendo che in zona reperisco solo i vari Peterson. Non che siano cattivi, ma sono i primi con cui ho iniziato, sono andato avanti quasi due anni pensando che fossero buoni e poi ho provato roba seria. Quindi adesso nell'armadietto ho tre scatole di Blue Note che adoro, una di Erin Moore Balkan, una di Peterson Gold Choice, due di Ratrice High Society, una di 965, da riprendere più presto, un Peterson Luxury Mixture, un Peterson Summer Breeze, un Peterson Sherlock Holmes, un Ratrice Terry Red, un Davidoff Scottish Mixture, un Davidoff Blue Mixture, un Dunedina Nightcap, anche questo da rifornire di sicuro, o un Capstan Original Navicat. A male in cuore, non trovo più l'Haston Type 6, che è in assoluto il mio preferito. Ora che ci assomiglino, ho il Blue Mixture e soprattutto più vicino mi pare l'High Society. Questo lungo elenco per farvi capire un po' i miei gusti e un po' la varietà di cui dispongo. A Pipe la scelta è più limitata. Ho un'ottima Stunwell, ottima per gli aromatici, una semi-bent, una Mastro Dritta, ottima con tutto, una Savinelli Oscar Dry, semi-bent, buona anche lei con gli aromatici, una Mastro Nolly, anche questa è una semi-bent, ottima sia con le English Mixture, è buona anche con gli aromatici, una Barontini Aurora Sultana, semi-bent, eccezionale con le English Mixture, una Brebbia Dritta che devo ancora usare a fondo, però ottima dopo l'acquisto, ma la peggiore del mio corredo dopo qualche fumata. Ora il mio problema è che dopo il trasloco, ora vivo in Asia, zona tropicale, umidità fissa 85-90% per capirci, ho smesso di sentire i sapori a cui ero abituato, quelli che sentivo in Italia, ad eccezione delle English Mixture con relative Pipe, la Barontini e le Mastro. Adoravo il Blue Note con la Stanwell, una pippa che non si scalda mai, raffredda benissimo il fumo prima che arrivi in bocca e faceva sentire mille aromi e note del Blue Note, era il mio tabacco Big Bubble per i momenti di sapore leggero e dolcissimo. Anche Life Society non riesco più a fumarlo, era diventato il mio preferito dopo la scomparsa dell'Ashton 6. Arrivato qui, mi sembra di aver comperato un tabaccaccio di media qualità. Si salvano il Terry Red, di cui ancora qualcosa sento, i due English Mixture, il Nightcap e il Capstan. Gli altri scomparsi. E a metà tra il fumare cenere e il fumare roba tutto uguale. Non sentendo i sapori, ogni tanto tendo anche a tirare di più e quindi a scaldare troppo il tabacco, che credo gli faccia perdere ulteriormente sapore. Ma se non tiro non si sente niente, solo fumo, al meglio senza aroma. La Stanwell e la Mastro dritta sono pipe da 150 euro, la Noli da 100, le altre poco sotto. La Brebbia è l'unica che capisco perché l'ho pagata solo 30 euro e rende poco. Ma con tutte, o fumo tabacchi pesanti o non sento eromi. Prima di passare a quel che trovavo in Italia fumando Peterson per molto tempo, avevo letto la Gold Choice una delle migliori per me, assieme al sapore unico dell'Irish Oak. E forse altri. Però, per i miei gusti, l'ho fumato troppo delicatamente per sentirlo. Ora i Peterson sono completamente scomparsi e sono latte che ho preso 15 giorni fa. Li ho fatti anche asciugare un paio di ore prima di fumarli perché erano davvero umidici. Difficile l'accensione e difficile tenerli accesi. Eppure il sapore non è migliorato di molto. Quelle dall'Italia ne sto aprendo man mano e non mi durano oltre i 15-20 giorni. Eppure sono passato da un gusto sensazionale e ben presente del Blue Note al nulla. Ogni tanto ha addirittura un saporaccio di cenere bruciata, è un tipo di quando si tira troppo. Sbaglio qualcosa nella fumata? Sono le pipe che avevano preso bene dopo l'acquisto, la maggior parte prese il mese scorso? Sono i tabacchi che sono conservati male da me? Non ho avuto problemi simili per i primi due anni con le pipacce cinesi prese qui in Asia a 15 euro. Le ho adesso che ho tabacchi di qualità e pipe decenti? Chiedo a voi perché a me è un mese che sembra di sprecare tabacco, fumo a ruoto, ricarico e passo alla seconda o terza pipata perché alla prima non sento nessun sapore e mi lasciano sempre molto insoddisfatto e ammareggiato per tutto quello spreco. Le pipe io le curo bene, le pulisco con lo scovolino, quello liscio, quando si forma condensa durante la fumata e invece con quello a spine metalliche ogni due o tre volte che fumo. Ma non cambia assolutamente niente, specialmente considerando che ho dedicato alcuni tabacchi alle pipe che rendono meglio, specie gli aromatici. La Savinelli è l'unica che prevederebbe il filtro da 9 mm e non lo uso più. Eppure qualche sapore ancora lo restituisce. Le altre quasi zero. Ma cosa ho sbaglio? Troppo veloce? Fumo in casa invece che all'aperto come prima, cambia qualcosa? Io capisco che Peterson siano ben inferiori rispetto agli altri tabacchi che ho. Ma ora si sono azzerati tutti allo stesso livello, non posso fumare sempre a Nightcap e 965. Dopo un po' stomacano e io ho bisogno di variare, anche con cose leggere. Avete dei suggerimenti? Scusate questo lungo messaggio, ma sto passando il tempo a rovinare tabacchi che non so quando ritroverò in Asia. Ho visto solo il Nightcap e il 965, ma questi li sento, il problema sono tutti gli altri. Fumo una volta alla mattina e un paio di volte al pomeriggio e una alla sera. Possibile che io abbia il naso saturo? Ciao, scusa una domanda. Oltre a non sentire il sapore del tabacco, ti capita di avere la fumata salata? Può essere un problema di papille gustative della lingua diciamo sature. Se così, si risolve smettendo di fumare per alcuni giorni. Beh, di salato sento qualche tabacco, tipo il Blue Note, ma penso che sia un suo pregio quella sensazione di agrodolce strano nel retrogusto a fine sensazione di Big Bubble. In questo preciso momento ho in bocca il Capstan e lo sento leggermente salato, nel senso che ora ci faccio caso. È come quella sensazione di star fumando con il cibo in bocca, saporito. Ma anche in questo caso potrebbe essere il tabacco di Capstan. È ancora la prima latta che sto fumando un tabacco subdolo. So che sembrava una domanda stupida, ma ho chiesto perché la cosa potrebbe dipendere da fattori che non conosco, tipo l'accensione sbagliata o altro. Io uso l'accendino, mentre in Italia erano i big piccoli quelli che usavo, quelli con la fiamma facilmente orientabile. Qui trovo solo del lanciafiamme che oltre ad avermi fatto prendere fuoco al tabacco varie volte, trovo difficili da maneggiare. Mi arrostiscono a mezza superficie e lasciano l'altra metà spenta. Magari mi sono bruciato troppo la lingua? Ma di solito il giorno dopo passa, ora dura da troppo. Dopo aver scritto il messaggio sopra mi sono fatto un sunset breeze. Inutile dire che è stato deprimente. Anzi, volevo aprire una discussione su dei tabacchi con cui ho dei problemi, ma non so se devo cercare una sezione per ognuno. Forse non finirei più. Per riassumere, una latta di Peterson Gold Blend, il mio Peterson preferito, se n'è andata senza che provassi minimamente quel suo gusto cioccolatoso e denso di sapori. Zero assoluto! Come fumare la paglia! Triste, visto che qui li pago un botto. Circa 15,20 euro a latta. Poi potrebbe essere la conservazione. Sono novizio e anche dopo due anni potrei fare errori di cui non mi accorgo nemmeno. Lo Sherlock Holmes mi sembrava davvero troppo umido per tenerlo così, come erba appena tagliata. E allora l'ho lasciato una giornata circa aperto. Adesso è asciutto, ma sapore zero. Magari è il tabacco. Anche per questo è la mia prima latta. Però o sono sfigato che ho preso 10 tabacchi che non si sentono o francamente non lo so. Anche l'Iso Society lo adoravo proprio perché a fumarlo nel freschino dell'ultima estate italiana aveva quel sapore metallico, delicato, dolce dell'Aston 6. Ho esultato quando l'ho trovato. Ora una delle mie due latte se n'è quasi andata senza nemmeno sentirla. Sono cose che fanno incavolare, sapete? Cambia qualcosa fumando in casa o all'aperto? Io avevo percepito delle variazioni in passato e di solito all'aperto sento meglio i sapori, ma non a livello dove non sentire più le differenze se non per la nicotina. Sarà che ho iniziato fumando la pipa due volte al giorno e ora cinque sono troppe? Francamente non so più cosa pensare. Per sentire gli aromi devo impegnarmi come un cane da tartufo. Rodaggio? Ma le pipe sono tutte prerodate tranne la mastro dritta che però ha la grande. Si brucia il naso? Forse tenendola in bocca mentre lavoro al computer vado troppo veloce senza accorgermene? Non voglio una vita di English Mixture c'è un modo per fumarla senza tenerla in mano e spostarla dalla bocca e senza affumicarsi le narici? Magari è quello che sbaglio. Fa specie che ho iniziato con il Borkum Reef Red Cherry ed è andato tutto sempre liscio. Ora che sono a quelli buoni me li perdo se non mi impegno. Sento solo l'attacchia e vorrei vedere a non sentirlo. Che mi abbia neutralizzato il sapore degli altri? Eppure lo fumo un paio di volte a settimana incluso il nightcap della buonanotte. Guarda, se vivi nell'Asia tropicale credo che il problema possa dipendere anche da quello. Il clima caldo-umido tipico di quei posti che io ho visitato spesso eh, può capitare. Sarà un caso se lì nessuno fuma mai la pipa? È possibile o probabile che l'alta umidità dell'aria presente nel sud-est asiatico impedisca o interferisca con la normale combustione che avviene nei nostri climi temperati e che renda anche difficile se non impossibile una rapida e fisiologica asciugatura di tabacchi troppo umidi. Insomma, è come se uno mi dicesse e ho provato a fumare la pipa sott'acqua e non sento più sapori. Ebbè, in sud-est asiatico l'aria è quasi come fosse acqua dall'umidità presente. È l'aria condizionata in casa? Prova a ricostruire lì un clima di primavera europea o di autunno scozzese?